Il giorno della visita all'agrigento del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, con un ricco programma tra cui l'incontro in prefettura con i sintaci dei comuni dell'agrigentino colpiti dal maltempo del 3 novembre scorso. La visita del Ministro serve a verificare quelli che sono i principali problemi legati in modo particolare alle condizioni delle strade. Parlare di viabilità nel capoluogo e nei comuni della provincia significa mettere il dito in una dolorosa piaga. A tenere banco naturalmente c'è la Palermo agrigento con un cantiere eterno, ma soffermandoci alla sola città dei templi a creare disagi è, ad esempio, il famigerato Ponte Petrusa, del quale non si sa più nulla, malgrado le proteste come quella della Cisle, che anche adesso con il segretario Maurizio Saia, profittando della venuta del Ministro Toninelli, chiede se qualcuno si ricorderà della triste storia che riguarda il Ponte Petrusa. È bene che si dica al Ministro la verità su quello che è conosciuto ormai come il Ponte della Vergogna, con i parlamentari della provincia agrigentina che finora sono rimasti assenti o impotenti. Consentire agli abitanti della Sicilia di muoversi più agilmente al suo interno. Questo è l'obiettivo del Ministro, perciò è bene informarlo su quelle che sono le questioni che sembrano dimenticate, come appunto la questione del Ponte Petrusa. Su Facebook il Ministro Toninelli ieri ha scritto, a proposito della viabilità in Sicilia, che ne va della dignità e della sicurezza dei cittadini. Ebbene, l'arrivo ad Agrigento di Toninelli è visto con speranza, la speranza di una città che nel frattempo sprofonda nella classifica sulla qualità della vita. L'augurio degli agrigentini, insomma, è che la visita del Ministro Pentastellato non si traduca nella solita passerella. Restiamo in tema di viabilità con la proposta del Sindaco di Agrigento Lillo Firetto di un referendum popolare per decidere sul futuro del viadotto Morandi. Sempre il Sindaco di Agrigento è dell'idea che bisognerebbe estendere gli interventi in favore dei terremotati anche ai comuni alluvionati. Intanto Mare Amico ha provveduto a ripulire il Siume Agragas. Dal canto suo il Governo regionale ha stanziato altri 12 milioni di euro per la messa in sicurezza dei torrenti.